allora 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 attenzione io invito tutti alla calma perché ci riprova sarno a dare l'ufficialità del nuovo attaccante del mio stavolta non dico di chi stiamo parlando prego ci illustri questa porcata che sta per fare il mina sì perché in questo momento per dacca non si riescono a risolvere gli ultimi gli ultimi dettagli anche per la questione extracomunitaria e quindi sappiamo che l'illiter è molto più lungo e per ultimo il giorno di mercato il milan sta trattando soltanto in questo momento vi parlo solo per la famiglia del civile come si scrive anche qui lui ha già accettato il milan per lui ci mancherebbe milioni totali tra prestito e riscatto ma è questo perché non vorrebbe diritto di riscatto loro vorrebbero inserire l'obbligo è ovvio ragazzi per vedere la classifica scusate la la carriera di raffa mira ma questo gli piaceva attare quindi vi dico subito che ne è buono voleva portare pura la lazio per fortuna allora è un 97 che ha 26 anni molto alto un mamma mia mamma mia la famiglia il nuovo karim a benze ma benze ma a me i tratti c'è nord vpn che è in primo piano se lo volete cliccare tutti sapete che cos'è una vpn con noi avete innanzitutto uno sconto e poi ma fra se vuoi continuare tu sconto clamoroso e quattro mesi extra su cui di ma faccio anch'io ma faccio anch'io e addirittura senza rischi perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati cioè c'è tipo il mese di prova ragazzi per capirci quindi potete anche provarla vedete se vi trovate il nuso che ne fate se la utilizzate cioè se avete intenzione di provarla che non l'avete mai fatto mi raccomando utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto che sostenete il canale e voi non pagate avete uno sconto tutte le app sono in italiano è sicura se no non siamo su instagram quasi fanno solo promozioni sicure non vi preoccupate ragazzi ma penso che tutti lo conoscete nord vpn però magari non l'avete provato se dovete farlo utilizzate il link ha fatto un gol in due partite quindi un 91 un attaccante non so fefu se tu l'hai studiato un po questo profilo sì sì no lo conosco lo conosco è una punta strutturata fisicamente diciamo gaza perché è uno che va sportellate fa sportellate è strutturato però tecnicamente è quello che è io mi aspettavo possiamo dire quello che fa un po schifo abbastanza diciamo è adatto per le ex catapulte che adesso quest'anno nel milano non ci sono più però diciamo che davanti mi aspettavo un colpo di qualità perché comunque blaovic osimen lautaro che a queste punte comunque a fine campionato diciamo il peso si sente scusate ma il problema non è che rafamir sia scarso perché deve venire comunque a fare la riserva il problema è che mi sembra un bel cavallo però raga il problema è che lo paghi 15 milioni ma è una follia stavi pagando tarimi 15 ma adesso oggi l'ultimo giorno di mercato cioè non è che vai purtroppo è così cosa ride rizzo sotto i baffi perché a lukaku no quindi è contento lukaku questi giocatore ti ho mandato una foto di un grafico non so se la vediamo subito attenzione il grafico di sarò illustri il blu sarebbe taremi e quello rosso invece rafamir sì che dati sono dati opta saranno ce li vuole spiegare sarno no vabbè sono scritti gli elati ho capito magari uno che non sa l'inglese sono azioni d'attacco poi sono attesi passaggi andati a buon fine diciamo aria sarà colpi di testa e si guarda in chat stanno dicendo una cosa sacrosana che cosa suggerimenti praticamente dicono a sto punto mi tenevo colombo scusi manfredi ma lei che così attento che cosa significa quella quella cronimo npg è l'unico che non riesco a capire adesso adesso lo scopriamo però è a sto punto mi tenevo colombo non posso giocare dicono sì però non credo comunque sarebbe messo meglio a questo punto il nuovo no e mira no penati goals dai raga se qualcuno qualche anima pia che non ci trolla sono i gol su rigore potrebbe essere credo che la cerco la cerco vabbè così uno esce da qua che magari comunque si fa anche una cultura npg dati opta nuovo pacco giocatori no penati goals no punch o got no pain no game allora sarebbero ragazzi sarebbero i gol senza contare i penalti ah ok ok gol senza rigori dai praticamente immobile poi c'hai quello di immobile con tale mitico di col senza rigori la classifica dei rigori senza rigori come sta rocca a gusto l'hai visto in questa giornata in trasferta visto l'altro gioco ma com'è più impante che fa sempre vispo sempre allegro un abbraccio forse una delle persone più di sinistra che ho conosciuto ma la lazio si muove sul mercato manfre ma non sembra più ma sarno che dici oggi è uscita questa notizia ragazzi adesso non facciamo finta di niente non mi ricordo chi la data di marzo di marzo di marzo di marzo ma perché non sei preso bene scusa stai parlando di un nome no perché secondo questo giocatore che è stato offerto che lui ha dei problemi lui ha dei problemi diciamo che non ha stato assolto da quella da quella accusa di violenza sessuale però credo che i procuratori lo vogliono portare via dall'inghilterra per allontanarlo a determinati tipi di situazioni e quindi lo vorrebbero portare in italia era un potenziale crack è augusto sì sì ma tanto lui la lavorazione la lazio il problema delle forze della lazio è non il giocatore il fatto che quel reparto è super affollato cioè sei quindi diciamo dal punto di vista economico si può fare come operazione perché tu prendi a parametro zero e con ingaggio intorno ai 700 mila euro un ottimo prospetto però al quale non è che puoi garantirgli più di tanto dal punto di vista tecnico e poi magari potresti che qualche frizione per quanto riguarda sia due anni che non gioca in chat la lazio già l'ha fatto con morrison un paio d'anni fa è andata male quindi secondo me questo è un po il dubbio beh però questo era veramente molto forte nel senso per me la lazio comunque avrà difficoltà a prenderlo perché un giocatore che comunque diciamo che economicamente non è non è così così semplice era stato proposto proprio come diceva augusto nel senso anche a me all'inizio avevano detto che era stato addirittura proposto alla lazio però parer mio cioè io se fossi la lazio che ci fossero condizioni favorevoli che ripeto al momento secondo me comunque non è stato assolto dicono ancora hanno a ma io non so neanche per cosa da una tipa ma la stessa ha ritirato le accuse e a quanto pare dopo si sono anche rimessi insieme quindi io ragazzi io non parlerei di una cosa che non so raga tra l'altro un attimo off topic ma voi avete visto che su netflix c'è il la docu serie su johnny depp che si è divorziato mamma mia che imbara io ho visto la prima puntata ragazzi sembra blackley c'è comunque assurdo cosa stiamo arrivando a piccolo off topic comunque e comunque non c'è non sappiamo di cosa stiamo parlando quindi con calma attenzione però perché a milano arriva un grande nome sarò comunque l'anno scorso ragazzi questo uomo qui fatto dieci gole all'ajax c'è l'unico giocatore che conosciamo no poi arriva miri ma perdonami tu conosci questo in conosci che intusi ma allora la colpa tua ma come come può essere come può essere lui perché lo prende l'intera allora lo conosci da su questa è la pallone da due anni da parabola discendente lo conosciamo tutti in italia sciocco arriva anche qualche interista che ci fa chiarezza e strano che gli interisti non non li hai chiamati e manfredi io prima li chiamavo sono aperti il canale quindi è difficile trovarne adesso c'è uno che si è appena svegliato e a breve si collegherà non vi preoccupare che ci fa chiarezza e non vi preoccupare